Il nostro compito è quello di divulgare il patto per i sindaci, far sì che le regioni possano anche fare delle leggi adeguate per migliorare alcuni dei nostri settori dal punto di vista ambientale, organizzativo e anche di modalità di vita, pensiamo ripeto ai trasporti pubblici, come l'utilizzo dell'economia circolare per evitare e ridurre scarti il più possibile verso inceneritorio di scariche, quindi delle cose che operativamente i comuni e le regioni possono mettere in moto. Naturalmente questo noi lo faremo anche guardando a Recovery Plan, al piano nazionale di resilienza e ripartenza del post-covid perché siamo convinti che utilizzando bene queste risorse avremo anche benefici dal punto di vista ambientale.